Gentili telespettatori, buona giornata. Salvini contro Fedez per difendere Giordano. Il leader della Lega interviene nella diatriba, nello scontro su un presunto servizio di fuori dal coro. Che cosa succede? Che Fedez fa un video sui social dove accusa Giordano di voler fare un'inchiesta avendo mandato una giornalista a telefonare a tutti i suoi amici di infanzia per chiedergli quali gusti ha Fedez, se per caso non gli piacciono solo le donne o anche altro. E Fedez ne ha dette di tutti i colori contro Mario Giordano dicendogli che il suo tipo di giornalismo è cloaca. Giordano poi ha risposto io non ho fatto nessuna inchiesta, non ho mandato nessuna giornalista ad andare a scoprire o indagare su Fedez e sui suoi gusti. Questa giornalista lavora per diversi programmi di Mediaset, quindi realmente il nome di questa giornalista sta circolando perché Giordano dice quella giornalista lì io non l'ho inviata, quindi Giordano non è che ha detto non c'è nessuna giornalista che ha telefonato, ma dice quella giornalista lì non l'ho mandata io, quindi vuol dire che c'è realmente una giornalista che ha fatto queste telefonate. Però la reazione di Fedez contro Giordano è stata molto aggressiva anche perché Fedez, personaggio pubblico, personaggio noto, è soggetto al risvolto della medaglia della notorietà. Quando sei un personaggio noto, l'attenzione mediatica è sempre su di te, spesso vanno a indagare, a vedere cosa fai, cosa non stai facendo, quando esci, che macchinai, dove abiti, quanto costa la tua casa, quanto ti pagano. Questo è il risvolto della medaglia di un personaggio che diventa noto, quando diventa noto vogliono sapere tutto di te. Questa è la realtà, ma molti aggrediscono chi poi fa delle indagini su di loro, ma questa è la notorietà, da una parte ha degli aspetti positivi e ha anche degli aspetti negativi. E arriva Matteo Salvini, che non essendo stato invitato, però si è messo in mezzo difendendo Mario Giordano, dicendo così, scrivendo su Twitter, «Gente che invoca la libertà, parla di libertà, dice di difendere la libertà e poi insulta, deride e offende». Amicizia e solidarietà a Mario Giordano, gigante nel giornalismo e nella vita. Mario Giordano poi ha risposto perché questo FedEx lo ha offeso per la sua voce, per altro, e lui dice, «Beh, io lo so, non ho una bella voce, non ho una bella faccia, dice Giordano, però tu devi, se vuoi attaccarmi, lo devi fare sulla parte professionale, che cosa c'entra la mia voce?» Il punto è che questo FedEx è, a mio avviso, un superficialotto, una persona che realmente ancora non ha capito come si sta al mondo, come le cose che si possono dire, non si possono dire, quello che è lecito o non è lecito, come ci si relaziona con le persone. È un ragazzino che ha fatto un sacco di soldi e che realmente non è il massimo del massimo del saper come comportarsi. Pertanto un giornalista importante come Giordano ha risposto in maniera pacata, ma ferma, dicendo «Guarda, le tue illazioni rivolgile da qualche altra parte, perché io non ho nessuno scoop e non ho in programma nessuna trasmissione per vedere chi piace a FedEx o chi non piace, io ho altre cose, altri programmi nella trasmissione, non ho mandato io nessun giornalista a telefonare ai tuoi amici di infanzia e non è neanche corretto parlare della mia voce, della mia faccia, perché questo non c'entra niente con temi di giornalismo». Quindi FedEx utilizza l'insulto verso una persona per teoricamente far valere le sue ragioni. Naturalmente nella vita è pieno di persone che utilizzano l'offesa personale per difendere le presunte proprie ragioni, è pieno, è anche in internet di persone che non sapendo come esprimere la propria opinione in maniera normale offendono gli altri. Quindi tu dici una cosa che non gli piace e arriva quello che ti offende. Quindi non parla della cosa in sé, dell'argomento, ma ti offende. Non sapendo argomentare lui, non sapendo come controbattere, cosa dire, offende. Ecco, FedEx fa parte di quella moltitudine di persone che quando non sa come relazionarsi con una persona offende. Ecco, una persona di un altro tipo come FedEx avrebbe semplicemente fatto un messaggio dicendo «ho ricevuto delle segnalazioni che la sua trasmissione sta indagando su di me, non mi sembra logico perdere tempo, chiedete direttamente a me che ve lo dico io», ma senza andare poi ad offendere il conduttore e senza poi avere neanche delle prove che sia andata così. Ma anche con tutte le prove avrebbe dovuto, come persona nota, affrontare la questione in un modo più adulto. Però, insomma, al festival abbiamo visto che è un ragazzotto cantante che ha fatto una montagna di soldi, però realmente finisce lì. Farlo relazionare con politici, giornalisti, un ragazzino un po' superficialotto che tutta la settimana è al centro delle notizie, ha detto a questo, ha detto a quello, credo che sia un po' deprimente anche per una società importante come quella italiana, concentrata a commentare un ragazzino superficialotto, milionario, che offende politici e giornalisti. Insomma, non ci sarebbe da fare troppo caso a questa persona, però mediaticamente interessa a molti sapere le sue vicissitudini. Grazie a tutti e arrivederci a presto.